E' stato il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ad inaugurare Cellotex Rivoli XIV, l'opera d'arte del celebre maestro Alberto Burri che amplia la collezione Farnesina. L'opera è incomodato gratuito dalla Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri impegnata nella conservazione e nella promozione delle opere dell'artista. Cellotex Rivoli XIV è stato installato nel Salone d'Onore al primo piano della Farnesina, nel punto dove vengono accolte le autorità straniere e dove avrà quindi massima visibilità. L'opera di particolare valore è stata realizzata nel 1991 e racconta una delle fasi più mature del maestro Alberto Burri, figura di particolare rilievo nella scena artistica italiana e mondiale. Accogliamo nella nostra collezione un'opera preziosa di Alberto Burri, è stato uno straordinario innovatore, è stato anche un interprete della cultura umbra, è una regione ricca di straordinarie opere d'arte, una regione che ha dato e dà molto anche alla cultura nazionale. Quest'opera dà lustro alla nostra collezione, è un'opera straordinaria che naturalmente avrò il piacere e l'onore di mostrare a tutti gli ospiti internazionali che entreranno in questo palazzo, che lo ricordiamo sempre, è il secondo più grande palazzo d'Italia dopo la reggia di Caserta. Benvenuto al nostro nuovo ospite, grazie a chi ha permesso di farlo avere, grazie a chi è autorizzato la possibilità di esporlo qui e credo che arricchirà di molto la nostra collezione. Vediamo pure se lo potremo poi, adesso non subito, però farlo conoscere anche in altre parti del mondo per far conoscere un grande artista italiano che ha lavorato molto anche all'estero, un grande protagonista della pittura italiana nel mondo e questo non può essere dimenticato. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il professore Stefano Valeri, componente del comitato esecutivo della fondazione Palazzo Albizzini, collezione Burri, e già professore presso l'Università La Sapienza, insieme alla dottoressa Anna Mattirolo, componente del comitato scientifico della collezione Farnesina. La collezione Farnesina, raccolta d'arte contemporanea del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, comprende circa 700 opere rappresentative dei maggiori protagonisti della scena artistica italiana, con uno sguardo sempre più attento alle ricerche e ai linguaggi più attuali. Grazie alla formula del comodato d'uso gratuito, la collezione è costantemente aggiornata attraverso un regolare avvicendamento delle opere in collaborazione con le principali istituzioni museali, gallerie e fondazioni italiane.